Non siamo pronti per questo film. Questa è una delle frasi che ho sentito maggiormente in merito a Povere Creature, l'ultimo film di Lantimo, se posso dire di essere parzialmente, almeno parzialmente d'accordo. Perché? Perché questo è un film inusuale, un film molto particolare, film del genere non si vedono di frequente, questo lo possiamo dire tranquillamente. E ho visto questo film in anteprima, mentre in Italia uscirà probabilmente da quando metterò questa recensione sul canale, tra un paio di giorni. E che cosa vi posso dire? Vi posso dire innanzitutto che Lantimo sia un regista che adoro. Ho amato praticamente tutti i suoi film, compreso il suo ultimo film, La Favorita, almeno l'ultimo prima di questo, in cui fra l'altro lui anche lì ha collaborato con la bravissima e talentosissima Emma Stone e possiamo dire che è un regista che non sbaglia mai. Almeno fino ad oggi. Film presentato fra l'altro a Venezia e che infatti ha fatto molto parlare di Seam molto prima della sua uscita, che ha fatto incetta, ha fatto collezione di premi ai Golden Globe. Finalmente l'ho visto e ragazzi è stata un'esperienza. È stata un'esperienza, un'esperienza narrativa, ma ancora di più estetica, un'esperienza visiva. Partiamo proprio da quello, dall'estetica. Per quanto Lantimos sia in questo film almeno un po' derivativo, e vi spiegherò da cosa, devo dire che è riuscito a creare comunque il suo stile, comunque il suo mondo estetico, un mondo fuori dal tempo, che ha un po' di steampunk, ha un po' di vittoriano, un po' di futuristico, un po' di assurdo, un po' di cinico, e la cosa bella è che il tutto si adatta perfettamente e con grande maestria alla narrazione. L'uso dei colori è magistrale, la color palette del film si evolve contemporaneamente e armonicamente all'evolversi del personaggio. Quindi la messa in scena è parte integrale, letteralmente parte integrale, della narrazione. Quindi non è solo un bel faccino da mostrare, come purtroppo fanno alcuni ormai registi autoriali. Prendiamo ad esempio Wes Anderson con il suo Asteroid City. No, in questo caso l'Antimus utilizza l'estetica per supportare la sceneggiatura, per supportare l'evoluzione dei personaggi e anche i messaggi che vuole mandarci il film. Ma poi le inquadrature, la composizione, sono praticamente molte scene, sono dei veri e propri quadri in movimento, l'utilizzo delle lenti a occhio di pesce che vanno a distorcere lateralmente le inquadrature, che non ha il solo scopo di guardare, sto utilizzando questa lente specifica, ma vanno a sottolineare l'atmosfera e il mood grottesco del film, andandola a valorizzare. E quando ho detto prima che il film ha qualcosa di derivativo, almeno l'estetica, è perché l'Antimus è palese se si è ispirato ad altri grandi autori, tra cui Lynch. È palese il senso di grottesco, le atmosfere linciane sono molto palesi all'interno del film, così come anche a Kubrick, di cui ha preso, o comunque a cui si è ispirato, per le musiche, delle musiche atmosferiche, che vanno appunto a conciliare benissimo le atmosfere linciane all'interno del film, creando un mix di ispirazioni che trovano la propria conciliazione all'interno appunto dello stile di Lantimus. E andiamo adesso invece alla narrazione. La narrazione del film ti presenta uno shock iniziale. Dopo lo shock iniziale, che ti spiazza, riesci effettivamente a entrare in questo mondo dell'assurdo, però inizialmente, almeno, fai difficoltà ad avere dei riferimenti. E dei riferimenti che però, man mano, andando avanti con la narrazione, Lantimus riesce a darti, perché Lantimus ti spiega la situazione in cui si svolge la narrazione e non lo fa con banalità, ma sempre con chiarezza ed intelligenza. Infatti ti somministra le informazioni giuste al momento giusto e rende quindi la sceneggiatura chiara e mai banale. Cosa fondamentale per permettere allo spettatore di fruire di una narrazione che ha la sua complessità, ma riesce comunque ad essere sviluppata in modo chiaro e sempre lucido. E la narrazione segue in modo particolare lo sviluppo del personaggio di Bella, che è la protagonista, interpretata da Emma Stone, un personaggio molto particolare, e mi fermo a questo per non andare, per non fare troppo spoiler, che è stata rinchiusa all'interno di una vera e propria gabbia dal padre per proteggerla dal mondo esterno. E diciamo che essendo frutto di un esperimento, e guardando il film potrete capire a cosa mi riferisco, inizialmente pensiamo che tra le povere creature da cui prende il titolo anche il film ci sia anche lei. Ma cosa succede? Che man mano che noi esploriamo questo mondo, che in realtà è solo un riflesso del nostro mondo reale, noi capiamo che le povere creature in realtà sono tutti gli altri, e non è l'esperimento del personaggio principale. E lo capiamo con sempre maggior chiarezza man mano che andiamo avanti con la storia, una storia che come detto segue lo sviluppo del personaggio, così come la consapevolezza del personaggio, e parallelamente a tale consapevolezza cambia anche l'estetica del film, come ho detto prima, in modo particolare la color palette. Quindi vedete che tutto è studiato in modo armonioso, in modo graduale e in modo intelligente. E quindi noi scopriamo questo mondo in cui si muove la protagonista, lo scopriamo insieme a lei. Scopriamo il cinismo di questo mondo, la cattiveria, la manipolazione, insomma scopriamo i lati più oscuri dell'animo umano, li scopriamo insieme a Bella, e man mano noi cambiamo la consapevolezza del film e del personaggio di Bella, man mano che noi scopriamo appunto il mondo che la circonda. E uno degli elementi su cui l'antimos fa più affidamento per farci scoprire questo mondo è uno degli impulsi primordiali, uno degli impulsi più primitivi dell'essere umano, e cioè il sesso. Un impulso che è alla base di ogni cosa, questo lo sappiamo, e che l'antimos utilizza per caratterizzare i personaggi, per dipingerli, per farci capire qualcosa in più di loro, e per quanto lo faccio in modo interessante, io qui voglio provare a muovere una, forse l'unica piccola critica che potrei fare al film. L'antimos, a mio parere, indugia forse un po' troppo su questo aspetto del film, quindi sul sesso, su questo impulso, e non fraintendiamoci. Ha ragione, perché l'ho detto poco fa, il sesso è l'impulso primordiale, l'impulso che è alla base di ogni cosa. Però, secondo me, alcuni messaggi che lui manda tramite il sesso, potevano essere mandati in modo diverso, con elementi diversi, e quindi aggiungere anche varietà al film. Invece sembra che la maggior parte di questo film sia basata praticamente unicamente su quello, sull'impulso sessuale. Questo limita, secondo me, leggermente il film, che integrando al sesso altri elementi, anche per mandare gli stessi messaggi, poteva essere appunto un po' più variegato, un po' più dinamico. E attenzione, non lo dico per fare il bigotto, ci mancherebbe, anche perché, figuriamoci, vede Emma Stone, comunque le parti, varie parti del corpo di Emma Stone, penso faccia piacere un po' a tutti, per quanto, appunto, il film non sia ovviamente valido per quel motivo lì, o almeno non per me, immagino per molti. Ma lo dico perché sembra che in alcuni momenti il film vada un po', giri un po' intorno a se stesso. E quindi sembra che voglia ribadire sempre la stessa cosa, ma in realtà non è vero, perché magari vuole mandare un messaggio diverso, ma sembra che sia sempre lo stesso messaggio, perché l'elemento su cui fonda quel messaggio è sempre lo stesso, appunto, il sesso. Quindi integrare altri elementi oltre al sesso, secondo me, avrebbe giovato ulteriormente a questo film. E anche la durata del film, quindi queste due ore e venti, non pesano mai. Il film scorre, che è una bellezza, proprio perché, per quanto alcune volte, in certi momenti, sembra che non riesca ad andare da nessuna parte, in realtà qualcosa te la sta dicendo. e anche alla fine, quando l'antimo si prende quei 20-30 minuti in più per dirti qualcosa, quel qualcosa è perfettamente integrato all'interno della trama, in modo particolare nello sviluppo del personaggio. A differenza, ad esempio, di un openheimer di Nolan, dove gli ultimi 30-40 minuti sembrano distaccati dal resto, e sembrano un film a parte. Invece l'antimo si è riuscito a gestire la lunghezza, che comunque non è chissà cosa, due ore e venti non è esagerata, è una lunghezza abbastanza accettabile, è riuscita a gestirla con una giusta maestria e anche alla fine non te la fa pesare questa lunghezza, e guardate ragazzi, che non è una cosa da poco. Passiamo al comparto attoriale, che non posso non citare, Emma Stone ha fatto un lavoro incredibile, il suo personaggio è ad altissimo tasso di difficoltà, è un personaggio estremamente difficile da interpretare, e ve ne renderete conto guardando il film, e lei è riuscita a integrare quel personaggio, ad assorbire quel personaggio alla perfezione, in ogni aspetto della recitazione, dal portamento, dal modo di parlare, dal modo di porsi con gli altri personaggi, con gli altri attori, c'è una fusione tra narrazione, tra caratterizzazione e recitazione, prestazione attoriale, perfetta in questo film. Inoltre questo personaggio riesce ad essere un simbolo dell'emancipazione femminile anche senza scadere nel ridicolo, quindi anche senza scadere nel nazifeminismo, perché tutti gli uomini presenti nel film vorrebbero rinchiuderla, in una gabbia, o tenerla per sé, ma lei riesce comunque a mantenere la sua emancipazione, attenzione, non sminuendo l'uomo, come fa ad esempio Barbie nel suo film, ma con intelligenza, con molto spesso con arguzia, con sagacia, con genialità, potremmo dire, e usando la propria stramba personalità, chiamiamola così, per portare l'uomo quasi sull'orlo della follia. Ma attenzione, l'uomo non esce mai sminuito all'interno di questo film, mai, semplicemente il personaggio riesce a far valere i suoi punti forti, e questo le permette ovviamente di superare gli ostacoli che gli si presentano, e cioè i vari uomini tossici che incontra durante il suo percorso, il suo arco di trasformazione. Quindi potremmo definirla, questa emancipazione, come innocentemente manipolatoria, e cosa che ha reso questo personaggio estremamente affascinante. E questa è il tipo di emancipazione che io considero intelligente, perché appunto non sminuisce l'uomo, non rende la donna sacra, perché questo personaggio femminile ha evidenti comunque punti deboli, o comunque anche lei ha delle debolezze, che il film non ha problemi a mostrare, ma allo stesso tempo riesce a valorizzare la donna, senza andare a distruggere l'uomo. Ragazzi, questa cosa la sanno fare ormai in pochi, e devo dire a Greta Gerwing, prendi lezioni da Lantimos, vai a Lantimos a prendere lezioni di sceneggiatura. E ci sono fra l'altro delle scene molto delicate, molto particolari, delle scene di nudo, di sesso esplicito, che qualsiasi attore mediocre farebbe molta difficoltà a gestire, e che probabilmente renderebbe cringe, e invece Mastone, dato che non è un'attrice mediocre, ma anzi, una delle migliori attrici in circolazione, riuscirà a valorizzare anche quelle scene, e la sua è una prestazione, ragazzi, da Oscar. Su questo non c'è dubbio, ha già vinto i Golden Globe, e vincerà probabilmente anche gli Oscar, alla faccia della povera Margot Robbie, che si è prestata a quella scemenza di Barbie. Ma, per fortuna, almeno i Golden Globe hanno premiato l'attrice che ha veramente dimostrato il suo valore, piuttosto che l'attrice che si è prestata a un teatrino comico, come quello, appunto, come il film, com'è il film di Greta Gerwig. C'è poi l'eterno co-protagonista, cioè William Dafoe, che però riesce a valorizzare tutti i personaggi che lui interpreta, dispiace che vederlo più spesso come personaggio secondario, piuttosto che come protagonista, che questo attore meriterebbe tutto, ogni cosa. Però, anche in questo caso, ovviamente è riuscito a valorizzare il suo personaggio come sa fare solo lui, e poi c'è un Mark Ruffalo in grande spolvero, anche lui che dimostra di essersi emancipato dal Marvel Universe. Non che ne avesse bisogno, perché ha già fatto anche altri film dove ha dimostrato il suo valore, ma in modo particolare, in questo caso, ha dimostrato appunto di essere un attore veramente con i controfiocchi, che merita molto più di quello che gli è stato dato, di quello che gli è stato riconosciuto fino ad oggi. E quindi, siamo di fronte al miglior film del 2023? Non saprei se possiamo definirlo proprio il migliore, però, tra l'altro, 2023, ma semplicemente perché, a livello globale, comunque negli Stati Uniti, è uscito nel 2023, in Italia uscirà appunto nel 2024. Io lo considero nel 2023, comunque, non so se possiamo definirlo in quanto tale, però sicuramente è tra i migliori, e mi azzarderei anche a dire migliore di Openheimer, perché Openheimer ha degli evidenti limiti, soprattutto nella sceneggiatura, mentre questo film, anche questo film, ha dei piccoli limiti nella sceneggiatura, però che sono tranquillamente ignorabili, ci si può passare sopra, e per questi motivi lo considero sicuramente più valido, leggermente più valido di Openheimer, non siamo pronti, siamo pronti per questo film, anche qui non saprei, sinceramente, però posso dirvi che abbiamo bisogno, adesso soprattutto, di questa tipologia di film, perché questa tipologia di film dimostrano la differenza tra un vero film autoriale, valido, gestito con maestria, girato allo stesso modo, rispetto invece a film puerili, a film che si ergono come i fenomeni del momento, ma che in realtà sono fenomeni, sono delle carte che prendono fuoco e scompaiono dalla circolazione, come per fortuna accadrà a quella emerita scemenza di Barbie, quindi questi film sono fondamentali per far capire alle persone la differenza tra un film, tra cinema, qual è appunto il film di Lantimos, e invece un fake cinema, qual è appunto invece il film di Greta Gerwin, e per fortuna i Golden Globe hanno messo in risalto questa differenza, sono felice di ciò, perché meritava che questa differenza fosse appunto ben chiarita e anche riconosciuta a livello accademico, possiamo dire, e concludo dicendo che Lantimos ha semplicemente preso a schiaffi a due a due fin quando non diventano disperi la cara Greta Gerwin. Detto questo, io vi saluto, a presto, ciao.